Mi trovo in via Medaglie d'Oro, angolo con via Sorcinelli. Come consigliere comunale raccolgo tantissime segnalazioni, come facevo d'altronde da giornalista. Nonostante le numerose segnalazioni fatte dai cittadini a chi di competenza, c'è questo palo per la segnaletica verticale che è completamente piegato. Ho timore che possa crollare, ma al di là di questo rappresenta anche un ostacolo per i passanti. Quindi rappresenta una situazione pericolosa rispetto alla quale, finora, nonostante le segnalazioni agli organi di competenza da parte dei cittadini, non è accaduto nulla, non vi è stato alcun riscontro, alcun intervento. Mi domando per quale motivo non si sia intervenuti. Io avevo proposto nel mio programma elettorale quello di creare lo sportello di pronto intervento H24 in un batter d'occhio, una squadra, ma d'altronde l'amministrazione comunale c'è anche l'infrataras. Non ci vuole nulla a rettificare, a raddrizzare il palo e quindi questo rappresenterebbe anche un pericolo in meno per chi ci passa. Ma evidentemente qui cosa dobbiamo aspettare? Che accada una disgrazia? Non penso che sia proprio il caso. Ecco, può sembrare una cosa da poco, ma fa capire anche come questa amministrazione comunale, l'amministrazione Melucci, sia sorda rispetto alle esigenze dei cittadini. Ripeto, io non pretendo che un amministratore sappia che in tale via ci sia il palo piegato, però dal momento che ti è stato sollevato il problema più volte intervieni. Ciò non è accaduto, ma si sa, il sindaco Melucci dice che sta seminando la rinascita, una rinascita evidentemente che si piega e che alla fine cadrà a terra.